Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Mi sono imbattuto in una notizia effettivamente agghiacciante, non saprei trovare aggettivi più pertinenti e più calzanti per definire il tema della notizia che sto per trasmettervi e che leggo su Open. Open, come sapete, è il rotocalco turbomondialista del direttore Enrico Mentana. Open nei giorni scorsi pubblica un articolo firmato redazione, quindi non c'è un autore specifico, un articolo che dice, leggo il titolo, servizio militare, così l'Unione Europea pensa di nuovo alla leva obbligatoria dopo l'Ucraina. Ebbene sì, ebbene sì, si comincia di nuovo a parlare di leva obbligatoria e non c'è alcun bisogno che io vi spieghi perché, naturalmente, è evidente, è auto-evidente. Sintetizzando un poco la questione possiamo dire ragionevolmente che gli eurotecnocrati delle brume di Bruxelles vogliono fare la guerra e vogliono naturalmente mandare noi a fare la guerra, noi e i nostri figli, i nostri nipoti, perché ovviamente loro decidono di fare la guerra, ma poi mica vanno a farla. È tutto compendiabile nella nota formula armiamoci e partite, ecco, perché ovviamente loro rimarranno comodamente assisi sui loro scranni di Bruxelles e manderanno a fare la guerra dopo averli addestrati come polli in batteria pronti a fare il servizio per l'imperialismo della Nato, i nostri figli, i nostri nipoti. Se tornerà, speriamo di no, questo progetto folle, a mio giudizio, della leva obbligatoria in vista della guerra, perché di questo si tratta, se siamo nel bel mezzo di una guerra e si parla di leva obbligatoria, potete ben capire quale sia il tema generale in questione, ricreare un esercito pronto per combattere per Washington. O citando il testo di Enrico Letta di qualche tempo fa, un best seller sicuramente, Morire per Maastricht, ecco, i nostri figli dovranno forse, chissà, essere pronti a morire per Maastricht perché ce lo chiede l'Europa e del resto se l'Europa ci chiede di affossare la Grecia dobbiamo rispondere, se l'Europa ci chiede di fare la guerra dobbiamo rispondere sull'attenti, battendo il tacco anzi. Questo è il punto e io credo che occorra più che mai prendere consapevolezza del fatto che anche l'ultima menzogna su cui si fondava il discorso europeisticamente corretto è palese. L'Europa ci protegge dalle guerre, chiuse virgolette, questo è il mantra. Non è così, l'Unione Europea non ci sta proteggendo dalle guerre se addirittura adesso è impegnata in questa folle guerra d'Ucraina per l'imperialismo nato e addirittura pensa, come leggevamo su Open, di reintrodurre la leva obbligatoria.